Hannibal manca Siamo in diretta, vediamo Capiamo che sta a fare, Giorda? Sta qua dietro a me Ok Un po' vediamo Tourney Group A Ok Ready Hannibal Ma Walla Walla farà qualche civiltà Troll Secondo me Posso mettere a fare profeti Non lo so Non lo finisce subito Vergogna Ok Fabri parte forte O forse se la gioca con Quegli arcieri a cavallo No Walla Walla va ad accedere a cavallo sicuro Fabri va sicuramente Va sicuramente spade Sì si sta streaming Ne ha un po' Walla Fabio muovendo Perché mi importa Che sta fa Fabrio Ok No Infatti E' un po' Walla Infatti E' un po' E' un po' E' un po' No Poi fa Nights E' un po' Scopato malissimo No Non lo fare Guardate veloce Che è stelag Terribile Ah buono fare questa particolare Dai No a posto farcieri farcieri Anche Fabri Non l'ha mai fatto di prima Mi sa C'è di buona Come La partenza Se li ha metto Un po' più vicino Non è C'è tutta Sturgenza Però Chiude Bravo Comunque Queste colline Sopra Le miniere Sono sempre Vinculate Comunque Lo sfottano Che pazzo Occhio Matto Che lui rivedrà Anche sto video Credo che Matto ci sente Perché Matto Non sa Mi ha concesso A una Vedi Anche qua Adesso Perché lui Non sa Che va C'è a cavallo Walla Però comunque Non oro Così vicino Alla Mura E poi Vada a perderlo Perché C'è a cavallo Ti passa Tranquillamente Vediamo Walla Che fa Vedi Però è partito Bene Non è partito Male Ha fatto Insegnamentare Troppo Quale Se sta Chiude In modo Giusto Coerente Corri 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 Manca Un quadretto Corri Corri No Chiude Chiuse Ah non Mi piace Quello Se passava Pazzesco Devi Chiude Anche Tra la Fiora E Tra la Foresta Sì Tra ieri Ah sì C'è La mette Un Eh Per me Quello Fabio Si l'ha perso Sicuro Fabio È partito Bene Sì Sì Infatti Bianca Ammazzato Un cosa A cavallo Pazzesco Io L'avrei Morato Tutto Alla Bollino Comunque Ma I ragazzi Non ci sentono Alex Alex Fabio Fabio Ci sente Alessandro No Comunque A me Non c'è Nientra Fata Molti Fighi Scontri Cavaliari A cavallo Era convinto Che andava Che L'ho andato A spare Vedi Per Tutto L'esercito Sì Andato In Puglia Sack Però Ammazzano Anche Cittadini Dovamo Fabio Comunque Mi sta Più C'è Il sacco E Wallamo Col Cibo Come Pomp Cibo Walla Ah Non ha Fatto Niente Non ha Manco Preso I Non C'aveva O C'aveva Già Magnati Ippo C'era Un po' Dele Fantille Dietro Ma Non C'aveva Ippo Comunque Bell Bell I Walla Top Territorio Sì Tutta Pianura Si Difende Benissimo Sì Tutta Pianura C'ha St'ingresso Da Una Part E Qua Mezzo Chiuderei Con Tre Queste 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 Ha fatto Questo Doppio Muro Fabio Non ha Capito Questa Rista Il Rischio Inutile Mi ha Fatti Poi Mi sa Che Si Passa Lo Stesso Ho Sbagliato Qua Perché Ho Fatto Stero No Sta Per Tutto Ha Dovuto Fa Un Sacco De Cosa Spostato L'esercito All'inizio Deve Stare Stato Qualcosa Comunque Non è Partito male Qua Si Passa Ancora C'è Dove Secondo Me Sì Ma Sti Cavalli Fuori Gocchi Vedi c'è un cavallo Sta scorrazza Tra le mura Sì La dove è Entrato La Poteva Anche Chiudere Se Avesse Voluto Perché Non sta Chiudere Fabio L'amasta Un buco Cazzo E poi Chiudere Qua Stara Già A fare Qua Stara Già A fare Così No Qua A Voglia Un po V No È Finita Perché Non c'è Nessuno Cibo Fabio Cazzo Cazzo Qua Allora Ho portato Forti Ma Dove Voi Ingrate Fabio Cazzo Mi ha Tantissimo Mamma mia Quanto Mi ha Migliorato Sì Veramente Veramente Nient'avo Bravo Anche qua se non avessi perso Tutti quei Tutti quei cavalli In modo un po' insensato Si sarebbe giocato Magari facciamo un paio di case Scusa Che tonto Vabbè dai Gigi Eh che giro che gli stanno a fare Quelli del legno Si ho visto Ma anche meno Comunque fa benissimo Si arrende Il sumo alfio c'era la velocità Comunque 1000-2003 Per me non c'era manco troppo a sta partita Peggio che non Che struttura Ce le fai quelle 10 Ah perché già c'è tutto potenziato Che non si è tutto potenziato Ma perché non si sa Che rende No, l'aeroporto non più c'è il video. Ma è che c'è l'eco, no? Rispetto a Fabri, Walla c'è l'eco. Bene se partire si chiudono così poco, come caso. Bene. Alla prossima. Io comunque Fabri che va a cavalli coraggiosissimo. Ma casato. Mi rimauvo alla 1000 e due. Ti usciti? Che è successo? Si è bloccato il gioco? Alta F4. No, nemmeno Alta F4. Ah, mi si è proprio bloccato il mouse. No, a me non mi si è bloccato il mouse. Qua sono le lobby. Aspetta, vediamo se riesco. Io sono lì uscito la caglia fatta uscire prima che succedesse il putifario. Come sei fatta la mia attività? Mannaggia. Va bene. Disconnetti. Buongiorno. Grazie.